ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi secondo giorno della vacanza con destinazione andorra andorra sui pirei no quella liguria perché sarebbe troppo semplice arrivare l'iguria oggi tappa diciamo di trasferimento infatti oggi non so se riuscite a vederlo già siamo mi risveglio sul lago san croix oggi sto tribulando un po con la action cam infatti non mi ha registrato un bel pezzo di strada perché non riconosceva la sd kart non so perché adesso non so dove sono arrivato con racconto comunque penso che vi stavo dicendo oggi tappa di trasferimento infatti infatti andrò penso che farò un bel tratto in autostrada vi farò vedere magari qualche tratto autostradale anche per per vedere se funziona bene il telepass europeo le strade comunque sono per il momento sono belle sono tutte così peccato che non vi ho fatto vedere la strada a venire giù dal lago diciamo perché non mi ha registrato comunque sia come ripeto oggi tappa di trasferimento con con destinazione carcassone un paese medievale situato ai piedi diciamo dei pirenei infatti è molto vicino ad andorra c'è molto sono ancora un 160 chilometri credo da da carcassone andorra infatti domani farò una tappa un po più breve però passerò tutti i pirenei vedremo oggi appunto tratta che di una tratta di 400 chilometri poco più con arrivo carcassone carcassone è famoso anche per il gioco da tavolo che se riuscirò a trovare il link di amazon ve lo metterò qua se volete se volete vedere un po come com'è noi ci giochiamo spesso con i miei amici ci cerchiamo spesso quindi ho detto ciao fammi andare a vedere la città che ha dato diciamo il nome a questo gioco origine a questo gioco magari le venderanno anche comunque sia oggi ho anche prenotato cioè ieri ho prenotato per oggi per la prima volta su airbnb che sono delle case private o appartamenti vedremo un po com'è vi lascio anche il link se volete prenotare di airbnb comunque vi dirò magari dopo come mi sono trovato comunque visto che mi capita spesso di leggere recensioni positive su airbnb ho deciso di provare a prenotare comunque vabbè ragazzi adesso vi saluto e ci vediamo più tardi per aggiornamenti se vi farò magari se entro in autostrada vi farò vedere un po di autostrada francese per vedere anche un po come funziona il telepass europeo se vi può interessare la cosa dei ragazzi mi sa che fra un po si entrerà in l'autostrada vediamo se si alza la sbarra del telepass si è alzata sono entrato nell'autostrada francese oggi il telepass è sempre funzionato lì ha funzionato anche adesso guarda guarda lì che spettacolo avete visto il castello bestie ma che spettacolo che bello andiamo a visitarlo questo si deve visitare carcasson ragazzi eccoci ragazzi arrivati a carcasson sono nella camera della casa che mi ospita camera molto bella adesso vi farò vedere guardate molto grande camera molto grande poi c'è anche un bagno poi giù c'è il cucinino e un salottino molto bello che adesso mi sono docciato tutto e vi porterò a fare un giro di carcasson a dopo ok ragazzi cominciamo a salire verso la città la cira il castello la città vecchia dunque sto viaggiando guardate come in ciabatte ragazzi in ciabatte e in costume appena si scorgerà qualcosa di bello vi farò vedere no 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 Grazie a tutti. 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 Un interessante luogo culturale e storico che vi invito davvero di visitare. Ok, anche per questa giornata è tutto, dovrebbe essere la seconda giornata è tutto, spero che vi sia piaciuto Carcassonne, vi ricordo di iscrivervi al canale e ciao ciao, alla prossima! Ciao!